E' un asco molto giuri, ma tu l'hai visto più? Eh, sì, e pure lei, pure Martina c'era, che capiscono la tessima, tutte e due. Eh, ma non si dicono, no? Se vanno a cairi tutti i ragazzi. Guarda, mi ha fatto l'impressione. Eh, sì. Sì, sì, no, perché hanno questo cambiamento proprio incredibile. Oh, sì.